Bene, ciao a tutti! Ora parliamo di body wave. La body wave parte dalla testa. Testa in fila, spalle, vado indietro, pancia, bacino. Per tornare in su, bacino, pancia, petto, spalle, testa. Quindi testa, spalle, busto, bacino e bacino, pancia, spalle, testa. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Provate a selezionare i vari movimenti. Testa, spalle, busto, tutto piano piano. Quindi faccio petto, sgonfio la pancia e vado indietro col bacino. Stessa cosa, al contrario, bacino, pancia, petto, spalle, testa. Qui, infilo e torno su. Si può fare stando su oppure body wave andando in giù. Quindi infilo la testa e scendo giù e torno giù. Infilo giù, torno giù. E si usa molto anche nel latino. Ciao!